Ciao, sono Elena Righi di Gateway.com Per garantire la migliore esperienza d'acquisto è necessario imparare a trattare i clienti di differenti nazionalità rispettando le sensibilità di ciascuna cultura. In questo video ti fornirò alcuni suggerimenti per gestire i clienti dei paesi del centro Europa, in particolare tedeschi, austriaci e svizzeri. Gateway.com, l'essere per tutti! Formalità Un aspetto tipico di tedeschi, austriaci e svizzeri è la formalità nei rapporti con gli sconosciuti. Dunque, durante le visite e le trattative, pur mantenendo il calore italiano, evita l'eccessiva confidenza. Concentrati e mantieni una condotta professionale, due elementi chiave per conquistare acquirenti di queste nazionalità. Precisione La cura dei dettagli e la precisione nel fornire informazioni è un aspetto molto importante quando ci si relaziona con clienti del centro Europa. Quindi evita semplificazioni ed offri dettagli approfonditi di ogni aspetto della visita e della trattativa. Programmazione Quando pianifichi una visita, evita l'improvvisazione e organizza tutto nei minimi dettagli, comunicando in anticipo la modalità di svolgimento e ciò che gli acquirenti possono aspettarsi durante l'incontro. Questa trasparenza mostrerà la tua professionalità, creando un ambiente confortevole. Spero che questo video possa esserti utile. Se ti è piaciuto, lasciaci un like e per qualsiasi domanda scrivici nei commenti. Qui ti lascio altri video che potrebbero interessarti e per non perdere i nostri prossimi consigli, iscriviti al canale. Gateway.com L'estero è per tutti!